L'8094, altra collezione di Repubblica che in questo caso comincia con gli usati e successivamente diventano nuovi, sempre in un classificatore. I pezzi chiave ci sono tutti, vedo qua che c'è la Repubblica Romana, la radiodiffusione, tutti gli altri valori sono presenti. C'è anche qualche ripetizione con l'Italia al lavoro. I ginnici sono nuovi, come ho messo in descrizione. Molto ordinata, in qualità normale. La serie Gronchi è nuova. Da qua in poi cominciamo con i francobolli nuovi, con qualche usato sporadico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.